John le Carré a 90 anni continua a scrivere, per fortuna perché è un grande scrittore, uno dei maggiori scrittori britannici, lo scrittore delle spie, vi ricordate la spia che venne dal freddo o la talpa e tutti questi romanzi legati al mondo spionistico della guerra fredda, lui lavorò per i servizi segreti, John le Carré, questa bella figura, in quarta di copertina c'è la sua immagine di oggi, John le Carré ha 90 anni che scrive, una bella figura di vecchio tipicamente britannico, adesso lui ha pubblicato appena da Mondadori in italiano, la spia corre sul campo, vuol dire che ci sono ancora le spie, certo, le spie vengono ancora dal freddo perché ci sono ancora degli agenti segreti russi, siamo nella Russia di Putin, così come in America c'è Trump, ma la Russia ha i suoi segreti, gli oligarchi russi a Londra per esempio fanno affari puliti, non troppo puliti e poi c'è il contenzioso fra Russia e Ucraina, c'è l'Inghilterra che cura i suoi interessi e quindi c'è una storia spionistica, un agente segreto alla fine della carriera dei servizi inglesi che si imbatte in una vicenda appunto spionistica legata alla Russia e l'Inghilterra di oggi, non dico nulla sulla vicenda che è anche molto complicata e ingarbugliata, bisogna amare il genere per apprezzare Jean Le Carré, ma ci sono due aspetti che voglio sottolineare, il primo è il fascino del mondo spionistico, un agente segreto lo è per tutta la vita, per sempre, anche quando magari è a riposo perché con la coda dell'occhio cerca sempre di capire se è seguito da qualcuno e con l'altro occhio cerca di anticipare dei movimenti che magari gli altri non vedono, insomma è sempre allerta, bisogna sempre nascondere qualcosa, c'è il doppio gioco delle spie che servono due padroni, c'è la difesa oltranza della propria parte, ma ognuno crede che la propria parte sia giusta. L'altro aspetto è lo scandaglio formidabile dell'animo umano, Jean Le Carré parlando di affari spionistici parla della natura umana, ogni persona ha i suoi grovigli interiore, ogni persona ha i suoi segreti personali e affettivi e usando un codice spesso molto criptico, il lettore ogni tanto deve rileggere per capire bene, Jean Le Carré è bravissimo ma soprattutto ci offre una ricchezza di stile narrativo, una sontuosità di linguaggio che ne fanno appunto uno dei maggiori autori in lingua inglese di questi ultimi decenni.